180 minuti di passione con l'obiettivo principale di evitare i play-out e garantirsi la salvezza diretta. Chieti, Notaresco e Castelnuovo hanno questo fondamentale obiettivo, anche se la situazione del Chieti al momento è quella migliore. Avendo ben quattro punti sulla zona pericolosa, la squadra di Lucarelli può anche giovarsi dei diversi sconti diretti tra squadre alle loro spalle. Domani all'Angelini arriva la seconda forza del campionato, il Trastevere, che deve difendere il piazzamento dall'assalto del Tolentino e che sarà privo dello squalificato Loporto. Anche un punto potrebbe stare bene al Chieti, che dovrà interpretare il match con la giusta Sagacia, sapendo che, a causa delle corte distanze, con una vittoria si potrebbero riaccendere anche speranze per i play-off. Ben più complessa la condizione delle due squadre del Vomano per il Notaresco e in atto un vero e proprio psicodramma, cinque sconfitte consecutive l'hanno portato in piena bagarre play-out. Ora servono sei punti per uscire dall'impasse. Domani al Savini arriva una recanatese già promossa e le motivazioni dovranno fare la differenza per un notaresco orfano dello squalificato Shiva. Tra i pali ci sarà Mariani, poi ultimi 90 minuti in casa dell'Alto Casertano. Scontro direttissimo per il Castelnuovo, il punto strappato a Portodascoli è stato vanificato dagli altri risultati e contro il Montegiorgio domani saranno tante le assenze tra infortunati e squalificati, Terrenzio, Casimirri, Morelli, Alfieri, De Giglio e Prestianni. Il tecnico di Fabio però non si lamenta e loda l'atteggiamento del gruppo. L'importante è quello che dico sempre a loro, è che non devono mollare, ci devono credere sempre e lo stanno facendo. Siamo venuti anche qui a Portodascoli con tante assenze, però in campo poi non si vede perché la squadra è da tutto e di questo ne sono orgoglioso. Vastese e Pineto sono invece concentrate sulla caccia alla zona playoff. Il blitz nella capitale ha ridato il quinto posto alla Vastese che domani avrà all'Aragona uno scontro diretto col Portodascoli. Marchigiani con tre squalificati, Sensi, Rossi e il tecnico Ciampelli. Sulla sponda di D'Adderio da valutare le condizioni di Agnello e Alonzi. Partita fondamentale in caso di vittoria playoff quasi blindati alla luce dell'ultima gara con il Nereto. Per il Pineto uno scoglio durissimo, la trasferta di Tolentino è molto complessa ma c'è bisogno di un risultato utile. Sappiamo che il Tolentino sta facendo veramente un grandissimo campionato. Nessuno se lo aspettava però comunque la classifica dice che sono lì e gran merito a loro. Noi ovviamente andiamo a giocare questa partita con tutte le nostre armi e cercando di portare a casa il bottino che io. Comunque sicuramente non sarà facile, anzi rispetterà una grande battaglia perché comunque siamo tutti quanti lì, tutti quanti vogliono raggiungere i propri obiettivi e quindi ce la giochiamo fino alla fine. Infine il Nereto che a Castelfidardo giocherà l'ultima trasferta stagionale. Grazie.